Siamo con Edi e Sergio in direzione Bertone. Ne manca ancora un po' ma bisogna affrettarsi perché sennò qua si prende ancora l'acqua anche oggi. Ne abbiamo già presa basta nei giorni scorsi, c'è stato proprio un nubifraggio. Nel pomeriggio di ieri scendendo dal Col Vessona è stata un'odissea, però poi abbiamo scelto di proseguire. Sergio come è stato il Malatrà? Un passo mitico? Il Malatrà mi ha piacevolmente stupito come sempre ed è stato il Col che ho apprezzato di più. E' il meno faticoso dovrei dire anche. Ed invece il tuo ricordo più bello di questo viaggio? Beh sicuramente aver conosciuto tante persone di altre regioni del Piemonte, della Lombardia, del Lazio e poi comunque aver fatto un vero e proprio viaggio che termine adesso da martedì. Per me è una novità, una cosa bellissima. È davvero una cosa bellissima, è stato bellissimo anche incontrarvi. Ciao ragazzi e buona continuazione. Ciao, ciao.